L'impatto dell'entrata in vigore del Super Green Pass in Toscana è stato soft, ma c'era da aspettarselo nella regione con più vaccinati d'Italia. Lo dice il Presidente Eugenio Gianni tracciando un bilancio positivo della prima giornata con le nuove regole. Vediamo che effettivamente non vi sono stati contraccolpi nel funzionamento dei mezzi pubblici o nell'accesso a uffici pubblici proprio per l'entrata in vigore del Super Green Pass da stamani. È lo sviluppo quindi di una cultura di base che porterà attraverso il Green Pass a evitare quello che è il diffondersi del contagio perché tenderà a mettere limiti a chi non si vaccina e chi non si vaccina ha un atteggiamento chiaramente egoistico che nei confronti della comunità richiede rigore e perseveranza nel verificare con controlli lo stato e la situazione. Va sempre alla vaccinazione estesa il merito, secondo Gianni, di tenere sotto controllo i ricoveri nonostante l'aumento dei contagi dovuto alla maggiore intensità di relazioni e rapporti tra le persone con l'avvicinarsi del Natale. E questo è anche il motivo che ha spinto il Sindaco di Firenze Dario Nardella e non solo lui in Toscana a reintrodurre l'obbligo di mascherine all'aperto in centro da questo fine settimana. Abbiamo avuto una grossa presenza di agenti di Polizia Municipale che hanno fatto presente agli avventori, ai passanti il nuovo obbligo anche lì abbiamo voluto prediligere un criterio di sensibilizzazione e di informazione rispetto a quello delle multe non ci interessa fare le multe, a noi interessa spiegare, informare, puntare sul senso di responsabilità dei cittadini quindi direi che il primo weekend è andato abbastanza bene senza particolari criticità.